Prima puntata di Mopedic dopo le elezioni regionali, buonasera amici ed amiche di TV6, abbiamo il piacere e l'onore di avere unico ospite questa sera l'Avvocato Giovanni Legnini, il Presidente Giovanni Legnini, buonasera Presidente, noi siamo laici, anche lei lo è, quindi non crediamo molto ai miracoli, però lei di fatto ha compiuto un mezzo miracolo in queste elezioni con un risultato che ha superato il 31%, sì è stato un risultato indiscutibilmente positivo, seppur in un contesto di forte spostamento degli orientamenti elettorali verso destra, che ha determinato una vittoria netta del centro-destra. Ciò che mi ha molto positivamente impressionato è stato visto dal nostro, mio punto di vista, questa straordinaria partecipazione, mobilitazione che io avvertivo, questa riscoperta dell'impegno, della passione politica e civile da parte di molti e scoperta nuova da parte di chi per la prima volta si cimentava con una candidatura o con un impegno e d'altro canto dopo il risultato un'attenzione nazionale molto forte, cioè questa nostra esperienza è stata, il che per me costituisce un fatto molto positivo, è stata individuata con una esperienza di riferimento per ciò che dovrebbe avvenire nel campo democratico, progressista, di centro-sinistra, del campo che non può essere ricondotto ai populismi o alla destra a livello nazionale e questo è un dato che ovviamente mi dà molta soddisfazione. Rispetto alla questione nazionale, lei quindi condivide l'appello fatto da Calenda per allargare il campo dei progressisti? Non c'è dubbio, Carlo Calenda ha colto un'esigenza, ha individuato un obiettivo, adesso quel suo appello, le adesioni che sta raccogliendo devono farsi progetto politico più compiuto, naturalmente non tutto ciò che è promosso, che si è verificato da noi o in altre realtà come la Sardegna che andrà il voto fra qualche domenica 24, è trasferibile su scala nazionale, ma ciò che rileva, lo è stato per noi, lo è per Calenda, lo è per le forze che vogliono animare un progetto politico nuovo, ciò che rileva è riaprire le porte, riaprire la partita, riaprire gli spazi di partecipazione, far sì che maturi una nuova sensibilità democratica capace di rimettere in discussione indirizzi politici, sia quelli che fanno capo alla Lega, sia quelli che fanno capo ai 5 Stelle, che non possono diventare le uniche alternative possibili, le sole alternative possibili. Il vero risultato che noi abbiamo conseguito e che bisogna far sì che si consegua su base nazionale è che il gioco democratico, le alternative possibili nel nostro Paese non si risolvano nel confronto scontro tra Lega e 5 Stelle, ma si risolvano in un confronto e futura competizione tra un centro-sinistra nuovo con componenti civiche popolari e un centro-destra. Mi sembra che il dato della crisi del Movimento 5 Stelle sia sotto questo profilo sempre più evidente. Peraltro, se il Movimento 5 Stelle non avesse ceduto centinaia di migliaia di voti alla Lega, probabilmente questa partita delle regionali sarebbe stata anche diversa. Certo, l'analisi dei flussi elettorali ci dicono che una parte importante, maggioritaria, dei consensi persi dal Movimento 5 Stelle che ha dimezzato, come è noto, la sua cifra elettorale, sono andate verso la Lega, ma una quota importante, significativa è venuta anche nel campo, in questa alleanza nuova che io ho promosso e animato, articolata anche da movimenti civici, ma anche da protagonismo individuale di persone che non sono riconducibili a questo, a quel movimento e tanto più a questo, a quel partito. Abbiamo intercettato una quota di quel consenso che si era indirizzata lo scorso anno verso il Movimento 5 Stelle, gli elettori che hanno voluto lanciare un segnale. Io l'ho detto anche durante la campagna elettorale breve, ma molto intensa, che noi abbiamo ascoltato e dobbiamo ascoltare le critiche, le delusioni, la richiesta forte di un cambiamento nel nostro campo, l'apertura di una prospettiva nuova, la credibilità di un progetto, la determinazione nel portarla avanti, tutti i messaggi che ci sono arrivati nel corso degli ultimi anni, nel corso dei mesi, ma che non avevano trovato ascolto. Noi abbiamo ascoltato e abbiamo organizzato una risposta, questa è la novità della nostra iniziativa politica. C'è un dato che è risultato negativo anche in queste elezioni abruzzesi, il dato della partecipazione a voto, circa il 50% degli abruzzesi non è andato a votare, è vero che qui c'è tutta la questione legata alla lista elettorale, a coloro che vivono fuori dall'Abruzzo, vivono nel mondo, però il dato della partecipazione non è bello. Guardi, il tasso di partecipazione è stato del 53, l'astenzionismo è un problema, a sua volta un segnale, un segnale molto forte, però vorrei far rilevare che quando si vota solo per le elezioni regionali, in una sola regione purtroppo l'astenzionismo risulta elevato, questo è accaduto in Abruzzo, ma è accaduto anche in altre regioni. Ricordo inoltre che 5 anni fa, quando si votò per le regionali in Abruzzo, votarono un numero di elettori, pare al 61%, se non ricordo male, ma si votava insieme alle europee, vi era un'attenzione anche nazionale su quella competizione elettorale, in più vi è il peso degli elettori che lei diceva, residenti all'estero, quelli che sono domiciliati, che lavorano, che studiano fuori dalla nostra regione, che tutti e non sempre sono motivati a tornare, insomma io non voglio trovare giustificazione ad un dato che deve ovviamente preoccuparci, ma si spiega considerando che si è votato solo per le regionali, che si è votato in pieno inverno e che l'attenzione anche mediatica nazionale e non solo, la si è riscontrata solo negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni, perché prima vi erano moltissimi cittadini che non sapevano neanche che si votava il 10 febbraio, quindi dato preoccupante sì, preoccupazione sì, ma non allarmismo eccessivo, qualche spiegazione c'è. L'altro dato che risulta in qualche modo eclatante, direi paradossale, è il dato dell'assegnazione dei seggi in consiglio regionale, cioè la coalizione guidata a Giovanni Legnini, 31,3%, elegge meno consiglieri del Movimento 5 Stelle che ha raggiunto il 20%, qualcosa non va nella legge elettorale Presidente? Beh è una norma assolutamente inaccettabile, assurda, che viola un principio costituzionale indiscutibile, inderogabile, quello dell'uguaglianza del voto, non può essere che chi prende più voti prende meno seggi, chi prende meno voti prende più seggi, è un effetto paradossale di una norma scritta male, norma regionale scritta male, fu introdotta dal centro-destra nel 2013 e non è stata cambiata dal centro-sinistra nel corso della passata consigliatura, noi stiamo interloquendo nei modi dovuti nel pieno rispetto delle prerogative della Commissione Centrale presso la Corte d'Appello, vedremo quale sarà il pronunciamento, ma se non saranno accolte le nostre ragioni e se quindi si dovesse verificare quell'assegnazione a cui lei si riferiva, noi promuoveremo i ricorsi che la legge ci consente di promuovere e andremo fino in fondo, perché lo dobbiamo ai nostri elettori, lo dobbiamo a regole minimali, alla democrazia stessa del nostro sistema democratico, mi sembra un effetto inaccettabile. Presidente, lei accennava, nonostante l'ottimo risultato, lo vogliamo sottolineare, lei accennava le difficoltà di contesto di questa elezione regionale abruzzese e tra le difficoltà di contesto c'era un governo giallo-verde che continua a fare promesse elettorali, a realizzarne alcune e poi vedremo dove porteranno l'economia italiana, ma c'era anche un contesto di difficoltà all'interno del centro-sinistra nazionale soprattutto. Quando è inciso questa difficoltà del dopo Renzi nel PD, perché ormai il centro-sinistra fino a oggi è stato il PD, ora c'è questa nuova idea lanciata proprio da Giovanni Leghini di allargare la coalizione a soggetti anche civici. I dati di contesto a cui lei si riferiva erano a noi tutti sfavorevoli, su questo non ci sono dubbi, è difficile da rintracciare un contesto così non positivo sotto molteplici punti di vista come quello che noi abbiamo vissuto e il valore della nostra iniziativa, dell'esito, del numero dei consensi, della cifra elettorale conseguita risiede anche in questo, anche nel fatto che un risultato di questo tipo con una partecipazione così estesa e un consenso di quel tipo lo si è maturato proprio nel momento nel quale tutto sembrava volgere in una direzione diversa. Questo è il punto che lei ha esattamente sottolineato e colto, il PD vive la sua stagione congressuale, non ancora supera le enormi difficoltà conseguenti alla severa sconfitta dello scorso anno, il governo della Lega dei 5 Stelle ha dispiegato ogni energia, ogni forza, le presenze qui ce le ricordiamo tutti, anche un modo di rapportarsi agli elettori che è molto discutibile, l'ho detto in modo chiaro durante e subito dopo il risultato elettorale, il senso delle istituzioni non è risultato di essere rappresentato in modo molto alto, anzi direi che si è fortemente attenuato con la presenza di quasi tutti i componenti del governo nella nostra regione e si sa che si marcavano a vicenda tra leghisti e pentastellati, il centro-destra che litiga a Roma è qui, ha provato a fornire una manifestazione di unità che non c'è, quella fotografia di Pescara, quella scena di Pescara, voi giornalisti la ricordate meglio di me, era tutta finalizzata a far apparire una unità che nei fatti non c'è, credo che anche i conflitti avranno un peso, mi auguro non a spese dei cittadini abruzzesi, ma avranno un peso anche nel futuro governo regionale che si andrà a costituire nelle prossime settimane, questo contesto non ci ha aiutato, purtuttavia noi abbiamo agito, operato contro vento, contro tutto e contro tutte le condizioni, purtuttavia ce l'abbiamo fatta a rompere un'argine e a rideterminare una condizione in base alla quale questa nuova alleanza con il centro-sinistra, con le forze liberali civiche si contrappone al centro-destra, compete con il centro-destra. L'altro contesto complicato del quale lei non ha mai parlato in campagna elettorale, anzi quando ne ha parlato lo ha fatto per dire anche bene della giunta del governo regionale guidato da Luciano D'Affonso, ecco oggi con tutta la tranquillità del caso anche quella esperienza di governo ha influito negativamente perché diciamocelo, al di là delle cose fatte o non fatte, alla fine il giudizio sull'aggiunta D'Affonso da parte degli abruzzesi non è stato un giudizio positivo. Esattamente come dice lei, nel senso che io l'ho detto anche durante la campagna elettorale, in realtà quella giunta, quel consiglio hanno prodotto molti risultati, che si vedranno anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni, penso al programma delle infrastrutture, penso ad alcune scelte che hanno riguardato la programmazione dei fondi straordinari di cui la nostra regione dispone, da quelli europei a quelli del fondo di sviluppo rurale, a quelli confluiti nel cosiddetto masterplan e altri risultati. Purtuttavia il giudizio che si è radicato nei cittadini abruzzesi era non positivo, di carattere negativo e noi abbiamo dovuto fare i conti con questa opinione largamente diffusa. Il fatto che la legislatura sia stata interrotta in anticipo per le scelte legittime, ma che comunque gli elettori evidentemente non hanno pienamente compreso del Presidente D'Alfonso, ulteriormente non ha determinato condizioni favorevoli. Insomma, anche quello è un dato di contesto con il quale abbiamo dovuto fare i conti. Io ho condotto, ho strutturato la coalizione, condotta la competizione in un modo assolutamente chiaro, dicendo dall'inizio alla fine che tutto ciò che è di positivo e ce n'erano di cose positive, penso all'uscita dal commissariamento della sanità, penso all'aumento dei livelli essenziali di assistenza, tutto ciò che di positivo si era verificato in questi anni noi l'avremmo salvaguardato, sviluppato, completato, attuato. Ciò che c'era da cambiare l'avremmo cambiato e questo è lo spirito che ci ha animato, che non era, ovviamente ne poteva essere di ostilità o di avversione, ma non era neanche a critica difesa. Credo che questo messaggio sia arrivato ai cittadini, che ci dicevano che dovete segnare una totale discontinuità, non discontinuità, noi vogliamo animare un'esperienza nuova, la mia candidatura e le nostre candidature, di tutti coloro che hanno accettato di candidarsi, sono per scrivere una storia nuova, una pagina politica nuova, noi speravamo che si potesse fare dal governo alla guida di questa regione, adesso cercheremo di animarla, anzi senz'altro l'animeremo dall'opposizione, noi non indietreggiamo rispetto a quella linea, siamo convinti che essa sia la linea giusta, che bisogna andare avanti e anzi proprio a proposito di quei risultati risultati, cercheremo di salvaguardare quelli positivi seppur da una posizione di opposizione e indicheremo anche senza imbarazzi ciò che c'è da cambiare e di cosa da cambiare ce ne sono. In effetti questo messaggio di equilibrio che lei ha dato in campagna elettorale è passato, tant'è che poi ha raggiunto il risultato che ha raggiunto. Lei ha già dichiarato, Presidente Leglini che resterà in Consiglio regionale, è stato eletto in Consiglio regionale in quanto secondo classificato dopo Marsilio e in più è stato eletto, voglio ricordarlo anche l'assessore alla sanità uscente di D'Affonso che ha risanato i conti della sanità, lei lo ha detto più volte, quindi lei resterà in Consiglio regionale, con quale spirito Presidente. A me interessa aiutare questa nostra regione, sostenere le ragioni degli abruzzesi, difendere i diritti degli abruzzesi, io questo lo farò dall'opposizione, lo farò con lo stile istituzionale, con la capacità di individuare problemi e soluzioni che sono quelli che mi appartengono, lo farò stimolando gli altri consiglieri regionali, lo farò opponendomi, ma stimolando sempre, indicando le vie, indicando le soluzioni a chi governa questa regione. Sarò una sentinella, una sentinella non solo del progetto politico che abbiamo promosso, ma soprattutto delle ragioni dell'Abruzzo, questo è quello che mi anima e lo farò con molta determinazione, con molta indipendenza, con molta libertà, anche con quella voglia che ha animato la mia candidatura di dare una mano a una regione della nostra che è piena di problemi, di emergenze, di difficoltà, ma anche di straordinarie opportunità. Interpreterò quel ruolo esattamente con lo spirito, con le ragioni, con gli obiettivi che hanno animato la mia candidatura e farò di tutto, già ho convocato tutti i candidati e coloro che le hanno supportate, farò di tutto perché questo progetto politico non solo viva, non solo va davanti, ma si rafforzi ulteriormente, questo è il mio obiettivo, ci sono tantissimi giovani che si sono candidati, che io vorrei che fossero i protagonisti dell'oggi e del futuro, vorrei che fossero la classe dirigente del futuro, per chi come me ha avuto la fortuna di fare tante esperienze, questo è l'obiettivo più bello che mi possa conseguire, cioè far crescere chi ha già dato prova di valere, ma non ancora riesce ad esprimersi ai livelli massimi quelli che sono convinto molti di loro riusciranno a conseguire nelle future tornate elettorali. Quindi opposizione costruttiva rispetto ai problemi della regione Abruzzo, ma anche un coinvolgimento non solo degli eletti del centro-sinistra, della sua coalizione, ma anche di coloro che hanno partecipato a questa bella avventura politica. Assolutamente sì, ripeto, ho già convocato per domani un primo incontro e troveremo anche le forme per far vivere questa esperienza, non voglio promuovere né un partito né un movimento personale, non mi interessa, d'altronde io con ogni probabilità, anzi sicuramente mi impegnerò anche a livello nazionale, vedremo in quale forma, ma la voglia di far sì che questa esperienza, questa iniziativa continui a dare frutti per la nostra regione, questa voglia è molto forte e non è solo la mia, lo è di tutti coloro che vi hanno partecipato, per il resto a me non piace, le dico la verità, la formula opposizione costruttiva, l'opposizione è l'opposizione, l'opposizione deve essere efficace, l'opposizione deve essere senza sconti quando hai la consapevolezza che chi governa sta facendo scelte sbagliate, si sta dirigendo verso una direzione inaccettabile o illegittima o non sostenibile, in quel caso l'opposizione sarà senza sconti, sarà netta, di fronte invece alla discussione, alle proposte di legge, ma anche ai progetti e ai programmi che vanno in una direzione giusta, si può verificare un sostegno pieno, si può verificare un sostegno critico, si può verificare l'indicazione di una proposta alternativa, bisogna che l'opposizione, questo vale in regione, ma vale anche a livello nazionale, sappia opporsi a ciò che ci è sbagliato e sappia indicare e sostenere le vie che ritiene essere giuste per i cittadini, questo io così la interpreto, d'altronde la mia esperienza parlamentare di 10 anni è stata… Ma allora è importante anche al Ministero, dal Sottosegretario insomma… Poi al Governo per un periodo e poi al Consiglio Superiore della Magistratura, ma in Parlamento io sono stato sia in maggioranza che all'opposizione, ho fatto l'opposizione, ho subito, subito per modo di dire, sono stato destinatario delle posizioni espresse dalle opposizioni, penso di avere le idee abbastanza chiare di come si fa l'opposizione, si fa in definitiva avendo in mente sempre una cosa ben precisa, chiara, gli interessi dei cittadini, il bene comune, la capacità di individuare e conseguire la via che ritieni più giusta per i tuoi cittadini, quando fai l'opposizione pensando solo agli interessi di parte, la strumentalità emerge e i cittadini non l'apprezzano. In Consiglio regionale ci sono due opposizioni, quella guidata da lei e quella del Movimento 5 Stelle, che tipi di rapporti potrebbero ipotizzarsi tra la sua opposizione, la sua minoranza diciamo così, è quella del Movimento 5 Stelle. Guardi, questo problema è uno dei più interessanti, diciamo così, che avremo di fronte, è più interessante perché? Non perché non si possa determinare, anzi io mi auguro che si determini, una convergenza di posizioni tra opposizioni, è auspicabile che questo accada e io non avrò nessun problema a far sì che ciò accada e anzi me lo auguro che possa accadere un numero di volte il maggiore possibile, ma quando all'interesse mi riferisco al fatto che il Movimento 5 Stelle è all'opposizione in Abruzzo ed è al governo, questo è il dato politico eclatante, a Roma non so per quando, le dico la verità, questo governo mi sembra molto vacillante, diciamo così, il conflitto è ormai permanente tra i due partner di governo e d'altra parte la maggioranza di governo di centrodestra è per una parte molto importante, composta da una forza di governo, la Lega, per un'altra parte Forza Italia, Fratelli d'Italia, composta da forze di opposizione al governo, quindi capisce che è una situazione molto interessante, diciamo così, molto interessante dal punto di vista dei posizionamenti politici, noi avremo la posizione più netta, siccome ci opponiamo a Roma, ci opponiamo qui e costruiamo l'alternativa, costruiamo il futuro, per noi sarà più agevole avere posizioni. Voglio vedere per esempio a proposito di sanità, poiché molte scelte che sono state fatte… Salvini ha promesso di riaprire tutti gli ospedali, prima devono cambiare alcune leggi che sono state approvate in questi anni, che hanno reso purtroppo necessarie scelte dolorose e poi potrà riaprire tutti gli ospedali, magari io ci metterei la firma, se legittimamente in un quadro finanziario sostenibile si potesse riaprire tutto, io sarei assolutamente d'accordo, ma sarà così? Punto di domanda, ci fermiamo, pubblicità. Seconda parte, ultima parte di Moby Dick con il nostro graditissimo ospite Giovanni Legnini, consigliere regionale, candidato Presidente della Regione, ottimo risultato il suo. Presidente, con lei vorrei approfondire un po' la questione nazionale, lei ha detto chiaramente, ma già se ne parla in campo nazionale, vorrà spendere questa esperienza in campo nazionale, ovviamente nel campo progressista, il suo campo in che modo? Dando un contributo a ridefinire la proposta, il progetto politico, il campo del centro-sinistra mi auguro il più allargato possibile in Italia, cioè facendo sì che si superi la stagione dell'autoreferenzialità delle forze politiche che l'hanno animato, la stagione dei veleni delle divisioni, tutto ciò lo dobbiamo mettere alle nostre spalle, dobbiamo avere a cuore l'interesse del nostro Paese, l'interesse degli italiani, dobbiamo predisporre una coalizione, non più un partito piglia tutto, ma una coalizione capace di riaprire porte e finestre alla partecipazione, alla voglia di animare un'esperienza politica, alla voglia di testimoniare, praticare valori, principi che ci collocini saldamente nel campo della democrazia rappresentativa e in un contesto europeo difficile, ma dal quale noi non possiamo in alcun modo discostarci, principi costituzionali, principi fondativi dell'Unione Europea, quelli che noi abbiamo scritto nel nostro patto di coalizione, progetto di governo credibile, progetto di governo forte, cambiamento di tutto ciò che c'è da cambiare, coraggio nel prefigurare una coalizione larga, aperta, un progetto di governo alternativo a quello che viene animato, che sta portando il nostro Paese in una zona di rischio altissimo. Questo è il contenitore, i contenuti, sui contenuti invece alcune questioni affrontate in maniera forse approssimativa, soprattutto dal governo Renzi, penso al Job Act, penso alla Buona Scuola, alcune questioni vanno cambiate secondo lei, una volta al governo questo centro-sinistra allargato? Certamente alcune cose vanno cambiate, altrimenti non avrebbe senso animare un progetto politico nuovo. Che cosa va cambiato? Quali sono gli obiettivi nuovi che ci dobbiamo proporre? Uno, sviluppo, crescita, lavoro. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le proposte capaci di prefigurare una nuova stagione di crescita nel nostro Paese e ciò tanto più di fronte al fatto che il rischio di recessione non è un rischio prospettato dalle opposizioni, ma è certificato dall'andamento del ciclo economico, ma dalle valutazioni che fanno le autorità anche indipendenti che sono preposte a fare le valutazioni. Siamo in zona recessione, mi auguro che si arresti questa deriva che sarebbe foriera di molti guai per il nostro Paese e poi l'altro grande obiettivo è aiutare chi non ce la fa, la lotta alla povertà non con gli strumenti dell'assistenzialismo pur e semplice, aiutare i poveri, aiutare gli esclusi, ma far sì che gli strumenti capaci di contrastare l'esclusione e la povertà possano generare crescita, questa simmetria che si è determinata tra il reddito di cittadinanza che in origine ha una finalità condivisibile aiutare chi non ce la fa, i poveri, gli esclusi e il deficit, farlo in deficit aumentando i problemi finanziari del nostro Paese e farlo in una direzione troppo assistenzialistica perché nessuno pensa che i navigator possano risolvere il problema della crescita e dell'opportunità di lavoro nel nostro Paese, è una visione che noi non possiamo accettare. Sostenere la povertà, creare opportunità di lavoro, crescita della nostra economia richiede l'individuazione degli strumenti molto più efficaci di quelli che sono stati immaginati dall'attuale governo. Questo suo progetto, Presidente, come si inserisce all'interno di un PD in piena lotta congressuale? Dico, utilizzo il termine lotta, diciamo sfida congressuale, con tre candidati alla segreteria nazionale, sono rimasti in tre. Intanto lei andrà a votare alle primarie del PD? Certo che andrò a votare, non sono iscritto al PD come ho detto, ma come è noto le primarie sono primarie a parte, tutti i cittadini possono andare a votare, io ci andrò molto volentieri. Chi voterà? Posso chiederlo? Voterò Nicola Zingaretti che considero la personalità politica che potrà meglio interpretare questo progetto di cambiamento, pur avendo molta stima e anche amicizia nei confronti di Maurizio Martina e di Giacchetti, di Roberto Giacchetti che mi auguro possano a pieno titolo, anzi auspico fortemente, che possano a pieno titolo partecipare alla guida del PD dopo le primarie. Presidente, secondo lei in che tempi il campo progressista potrà essere competitivo per ritornare al governo dell'Italia? Noi abbiamo di fronte una grande prova, densa di significati politici che è quella dell'elezione europea, sarà quello il banco di prova per verificare se una nuova offerta politica capace di allargare il campo di quello che era il centro-sinistra fino alla competizione elettorale dello scorso anno, farà passi avanti o no? Io penso e spero fortemente di sì, perché è proprio sul terreno delle politiche europee, del posizionamento del nostro Paese su scala europea e internazionale, del rapporto che vi è tra i rischi che corre il nostro Paese e i problemi che ci provengono dall'attuale conduzione politica europea, proprio questi sono i terreni che possono dare forza, sostanza a un progetto politico nuovo. Il banco di prova saranno le elezioni europee, se lì questo campo largo, democratico, progressista e liberale e mi auguro anche civico, si manifesterà con forza, noi potremo cambiare la politica nel nostro Paese. È un banco di prova anche per l'attuale governo giallo-verde? Certo che lo è, perché vi è questa fortissima spinta sovranista che isola il nostro Paese, che ci proviene dalla Lega, che ci proviene dai Fratelli d'Italia e lì si verificherà anche una forte contrapposizione con Forza Italia e vi è questa posizione non ben definita, contraddittoria, a volte balbettante del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e l'Europa e le politiche europee. Sul campo delle politiche europee, della congezione dell'Unione europea e quindi della competizione elettorale europea si potranno segnare le differenze, i perimetri delle politiche, delle identità, delle varie forze politiche in campo. Ecco perché sarà molto interessante partecipare a questa competizione da parte delle forze politiche principali, dei campi che si aggregheranno e io mi auguro fortemente che il campo democratico sappia esprimere una nuova energia, una nuova forza, una nuova proposta e anche mettere in campo nuove candidature. Una domanda indiscreta, non posso risparmiarmela. A Roma circola il suo nome come capolista per le elezioni europee. Esco adesso da un sforzo così importante, competizione alla quale ho dato tutto me stesso, ho messo tutte le mie energie, non penso adesso ad altre candidature, sto pensando a come far vivere questo nostro progetto, avviare la legislatura regionale, dare un contributo a questo sforzo rifondativo del campo democratico su base nazionale. Non penso a candidature in questo momento. Fino a 27 aprile, data di presentazione a lista, ci sarà tempo. Ha già sentito il nuovo Presidente della Regione Abruzzo? L'ho chiamato il giorno stesso del risultato per fargli auguri di buon lavoro. dal punto di vista dei rapporti personali, umani, ma anche dei rapporti politici, non mancherà da parte mia l'assoluta correttezza senza fare sconti. Assolutamente. Non siamo in campagna elettorale ovviamente, di promesse Giovanni Leghini non ne ha mai fatte a vuoto, però adesso gli facciamo dire cosa promette agli abruccesi nel suo mandato del Consiglio regionale. Di mantenere viva la speranza per un Abruzzo migliore. Bene, grazie a Giovanni Leghini, è stato un piacere e un onore averlo ospite qui a TV6. Noi, se lo vorrete, ci vedremo ancora venerdì prossimo alla stessa ora. Grazie e buonanotte da Moby Digger.